Eeeh what's up a tutti c'è ormai benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War Vi ricordo ragazzi il vostro sostenibile like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete al prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime per voi soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Reccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa abbiamo continuato il nostro cammino dentro Alfaim Dove appunto eravamo arrivati ancora precedentemente grazie comunque all'aiuto della strega del bosco Che poi era stata trascinata letteralmente via dal maleficio che la tiene imprigionata dove vive E quello che ci aveva suggerito di fare era di entrare appunto nel raggio di luce di Alfaim Che era al centro del tempio ad anelli se non sbaglio Fatto sta che dopo varie difficoltà perché abbiamo incrociato comunque questi benedetti elfi neri Che hanno cercato di intralciarci in ogni modo Alla fine siamo riusciti ad arrivare al centro del tempio ragazzi Che era diventato una sorta di nido di questi elfi E che quindi facevano sì che appunto questa luce non risplendesse fondamentalmente Alla fine siamo riusciti a liberare questo centro del tempio da questo nido E quindi a far sì che appunto la luce riprendesse a splendere Quindi alla fine Kratos ha fidato la sua ascia da Treus Prima di entrare nel fascio di luce di Alfaim All'interno del quale ragazzi ha vissuto una specie di visione Se vogliamo chiamarla così Visione che sembrerebbe essere durata poco Ma in realtà ha lasciato Kratos all'interno della luce per un bel po' di tempo Infatti quando alla fine Atreus ci ha tirati fuori Ci siamo accorti di essere rimasti lì dentro per parecchio tempo Atreus si è anche dovuto difendere da solo da tanti nemici Però alla fine per fortuna è riuscito a sopravvivere e a tirare fuori Kratos E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati esattamente qui al di fuori del fascio di luce Dove ci sono tra l'altro tutti questi cadaveri E è riuscito Atreus appunto a difendersi da solo E quindi ragazzi non ci resta che proseguire Perché adesso avremo ricaricato comunque il Bifrost della luce che ci serviva Ragazzo l'arco Ah ok adesso funzionerà Nello stesso modo la magia Ok Ok Hai ottenuto le frecce di luce Tira le ai cristalli di luce per infondarli con la luce di Alphine Perfetto quindi adesso potremmo utilizzare anche i ponti di luce insomma Hai ottenuto le frecce di luce Tira le cristalli Ok vabbè sì Al segnale scocca la freccia sulla roccia Perfetto Tieni premuto per mirare E premi quadrato per ordinare Atreus di scoccare una freccia di luce Perfetto Wow Ora possiamo tornare indietro Ottimo ottimo Quindi trova il modo di uscire dal tempio Quindi non ci resterà ragazzi che provare ad uscire dal tempio Perfetto La scala è bloccata Eh eh Scenderemo in un altro modo ragazzi Non ti preoccupare Forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto Vediamo vediamo Ah ok eccolo qua Cioè questo perlomeno brilla Scendiamo da qui E scendiamo da qui Non è quello il cristallo Ma è questo Quindi lo dovremo inserire In questi affari di luce immagino No? Ah qua c'è un forziere Quindi possiamo utilizzarlo ragazzi Per arrivare là sopra Perfetto Pronto per l'attivazione Ecco qua Ok adesso possiamo salire di nuovo Fantastico Così possiamo andare ad aprire questo forziere Poi non dite che non mi guardo intorno ragazzi Ecco qua Perfetto Vicino alla carcassa Che meraviglia Cosa ho trovato? Cuore spezzato di alfheim Incantesimo Riduce il 12% Tutti i danni inferti dagli alfi scuri Ok Quindi comunque sempre specifico Per gli alfi scuri Io prima li ho chiamati neri Ma insomma Il concetto fondamentalmente È quello ragazzi Perfetto Quindi adesso non mi resta Che riprendere il cristallo Lo sganciamo E lo andiamo ad inserire Dove ci serve Esattamente qui Io non so se ragazzi Sarà così facile Comunque uscire da sto posto Vedremo Vedremo Ecco qua Ok quindi ci tocca di nuovo Salire ragazzi Così possiamo passare Da qui Ok 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 Quindi stiamo tornando Semplicemente indietro Ecco qua Immaginavo Non sarebbe stato Tanto semplice Dove sono gli altri incubi Li vedo Boom Non l'ho colpito Ok Stiamo a posto Sì abbiamo fatto Almeno per adesso Vediamo Sti poveri elfi Chiari ragazzi Sono stati Letteralmente Trucidati Ah ok Devo colpire anche Quell'altro là in fondo Vediamo ragazzi Perfetto Ok si è liberato Questo corsiero Non l'avevo notato Perfetto Ah Jean Minchia 686 Fantastico E va bene Allora ragazzo Vediamo di Tornare ancora più indietro Che ne dici Da dove passiamo Però Ci sarà Ah ecco il cristallo Laggiù Lo vedo Perfetto Adesso si che abbiamo La possibilità Di aprirci tante strade Ecco qua Giusto per Rinominarli Visto che li abbiamo Nominati fino ad ora Pensavo che Avessimo finito Con gli alfi scuri Aia A tua sorella E invece Non abbiamo finito Proprio niente Ragazzi Boom E E boom Ok Perfetto Vieni pure a Treus Adesso la strada È sicura Ci pensa tuo padre Non ti preoccuparti Allora Intanto raccogliamo Questo E Argent Anche qua E Niente Allora Per togliere Tutta questa robaccia Da qui Ragazzi Da che Zona devo mirare Probabilmente Da qui No Non ho la minima idea Da dove colpirlo Da qui è praticamente Impossibile Va bene Va bene Va bene Come non detto Allora Scusate un attimo Però Se a Treus Colpisce qua Uh Ok E mi apro Un altro ponte Eh Allora sì Allora sì Ragazzi Basta cambiare Prospettiva Finalmente Illuminerò il cristallo Se mi trovi l'angolo Di tiro Ok Basta cambiare Punto di partenza Cerchiamo di ritornare su Ok Cerchiamo di ritornare su Eh Ma Quindi Se lo colpisce Dovremmo però salire Allora Vediamo se per tornare su Ragazzi Dobbiamo andare di qua Perché Da dietro Non credo ci siano accessi Per andare di sopra Ah vabbè Ah vabbè Ma qui ci sono stata Un attimo fa Ok Probabilmente Liberando Ah ecco Infatti Ragazzi Questo muro Vedete Ci possiamo Aggrappare qua Vieni Figliolo Qualizzati di nuovo Come solo tu sai fare Andiamo di sopra E Opla Perfetto Ok Siamo tornati Su ragazzi Infatti Ciao cari Quanta siete balli È caduto di sotto Oddio Oddechio E Maledetto Maledetto Quanto li odio Questi ragazzi E su Ecco qua A posto Grazie figliolo Ah gli ha sganciato il colpo di grazia Ok ah adesso posso potenziare le abilità Attenzione Quindi le frecce di luce aumentano l'indebolimento dei nemici Questo comunque potrebbe essere utile Quindi lo comprerò E comprerò anche questo Le frecce di luce causano più danni da stordimento ai nemici Mi piace Ci sta Acquistiamo anche questo Questo non mi sembra male ragazzi Un attacco finale pesante che chiude una combo di attacchi leggeri Quindi bisogna premere tre volte R1 Una volta R2 Chissà spero di ricordarmene Ma intanto meglio acquistarlo Ok dai allora Per adesso restiamo a posto così Quindi C'eravamo aperti una nuova strada che suppongo Sia questa Cerchiamo di procedere ragazzi Se no restiamo bloccati qua tipo in eterno Cioè io sinceramente non ne ho voglia No qua è da dove siamo appena arrivati Scusa Cioè nel senso siamo scesi da qui prima se non sbaglio Allora vediamo ragazzi se l'uscita è di qua Io spero sinceramente di sì Perché non voglio restare bloccato qui in eterno Anche perché sono veramente curiosa di tornare indietro E vedere che cosa ci aspetta ragazzi Una volta tornati da dove siamo arrivati Salve E' tosto questo Ecco mi ha evitato Alla grandissima come sempre Eeeh E' oh Sono troppo veloci E' oh E' oh 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 Quanto è cattivo lui Quanto è cattivo lui Oddio Sono tosti questi Ecco qua Ok uno è andato Forza ragazzo Tra l'altro Qualcuno di voi mi ricorda sempre nei commenti ragazzi Che nemici li posso loccare Quindi devo cercare di mettermi in testa anche questa cosa Perché li leggo sempre i vostri commenti Ogni volta mi dico è vero Mi devo ricordare di fare questa cosa E poi puntualmente mi dimentico Quindi intanto apriamo qua Visto che c'è la possibilità di farlo Non capisco perché non sfruttarla Quindi allora Sferzata di hut card Attacco runico leggero Un ampio attacco ad arco Che infligge una discreta quantità di danni da gelo Vediamo un attimino Perché attualmente Ho questo Che è che fa praticamente la La rotazione Mentre questo Eh Praticamente si Fa una specie di Disfersato Una roba del genere Però devo tenere premuto R1 Per caricare fino a tre ondate Non male Non male Va bene Dai direi di equipaggiare questo per adesso E va bene così Possiamo procedere questa volta Succede qualcosa Che è successo Perché non passiamo Oh ragazzo Colpisci un po' qua Che è successo Non è successo una massa Ah Lo devo spaccare letteralmente Avere Però questo me lo porta appresso Eh Me lo porta appresso Stavo appena dicendo Cioè se lo inserisco qua dentro Per esempio No Che succede Vai un po' Uh Qua ci sono delle rune ragazzo Vieni Guarda qui Solo tu Puoi essere capace di leggerle Forza Che cosa dicono Mh 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 Beh Perché non mi parli Che è successo Adesso forse arrabbiato Dalla luce nasciamo E alla luce facciamo ritorno La luce è il fiume di anime Ci trasforma Ci consuma Trascendendo la vita e la morte La luce è verità La luce è tutto Ok La luce sembra grandiosa Ma forse ti fa anche impazzire No Beh Se la guardi a lungo Per esempio Quella del sole Perlomeno Beh Tanto bene non ti fa Poi dipende dai tipi di luce Questo me lo riporto di nuovo appresso Che non si sa mai Se sei staccato Un motivo ci sarà Quindi siccome voglio essere Un minimo previdente Intanto me lo porto appresso Perché no Sembra che mi stanno ascoltando Ragazzi E' bellissima Questa tela Guarda La porta blu Che non è una porta E' una vasca Ma come faccio a raggiungerla Che significa Seme Ricorda la forma Sì lo so Ok Ricordati la forma ragazzi Intanto questo lo mollo un attimino qua Ah Forse ho capito dove lo dobbiamo piazzare Però qua bisogna colpirne tre ragazzi Non è uno scherzo Se salvo di qua Se salvo di qua però Intanto Succede qualcosa Troviamo qualcosa Di utile Uh Qua dietro c'è uno di quei forzieri Ingridibili Sì però qua non Non passiamo ragazzi Neanche se Mi sparo Allora In nessuna di queste basi Lo si può mettere Perché non brillano Ah però qua sì Attenzione Questa base Scrucci cosa Non l'avevo vista Ragazzi La mettiamo subito qua Guarda Ok ragazzi Vai Spara Uh Ok Adesso Saliamo Magari metterci di qua Ragazzi Ci permette di colpire Quelle tre Robbe schifose Allora Servono le tre rune qua Come sempre Però bisogna Suonarle Ragazzo Se vorrò il tuo parere Te lo chiederò Io stavo per dire Più o meno La stessa cosa Cioè Ditemi Se io e Kratos Non siamo ragazzi Mentalmente collegati Adoro Adoro Tutto Tantissimo Cioè Chi ti ha interpellato Dico io Scusa Allora Arjon Però io devo trovare Le altre due rune Dove saranno Mai le altre due rune Vediamo Eccone un'altra Quindi un due Dov'è la terza Deve essere comunque Più o meno A portata di mano Perché Se bisogna fare La cosa a tempo Ragazzi Qua ce n'è un'altra Eccola qua Ammazza Mano male Mano male Che è a portata di mano Ha detto niente Ha detto No non farò mai in tempo Ragazzi Quindi forse Devo Devo vederla Dalla sopra Perché non No 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 Non si fa in tempo Eh ma Dalla sopra dove Ah ecco Mamma mia Che ciecata Aspetta Uno Due No l'ho mancata Ok ditemi che ce l'ho fatta Ve prego Che sfiga ragazzi Cioè per Non faccio mai in tempo Ma tipo per un nanosecondo Che palle Uno Due E Tre Ok adesso si Manco adesso Ma che è una presa in giro Dai Non ci sto credendo ragazzi Non ci sto credendo Signore e signori Ok Forza 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 Dai Ma non faccio mai in tempo Scusa Ma non è normale Sta roba C'è qualcosa Che non va ragazzi C'è qualcosa Che non va Ok Mamma mia Ce l'ho dovuto fare tre volte Ma ci pare normale Perché a me no Ok Vediamo Un altro Corno di idromele Perfetto Raccolto uno di tre Questo sempre per aumentare La rabbia massima Benissimo Allora Adesso che abbiamo Aperto questo Benedettissimo Scrinio Posso colpire Qualche affari Da qua Uh si Era proprio qua Ragazzi Era proprio qua Che lo devo usare Perfetto Adesso mi riprendo Il mio mega cristallo Me lo porto a presso Guai a te se dici di nuovo E me lo porto ora per tutto Perché se non fosse per me Adesso saremmo ancora Il centro del tempio E lo piazzo qua Ecco fatto Vai figlia Colpisci Ora puoi arrivarci Ok Aspetta Come? Come ci arriviamo adesso? Come ci arriva adesso? Perché di qua Non si può salire Ci dobbiamo rampitare qua Ah Ok Come sempre ragazzi Mi complico tanto la vita Quando la soluzione Di solito è quella più obvia Più semplice Vai ragazzo Vai Ah Ridisegna la luna Continua L'uomo più grande O l'albero più alto Sempre da me Iniziano soltanto Sì Assieme Stupidissimi Ok Giustamente Sì sì Ha senso Ha senso Così alla fine è una porta Se vogliamo definirla tale D'accordo Se ti fa sentire meglio Chiamarla porta La chiameremo porta Bene Finalmente possiamo aprirla Questa benedetta porta Wow Ma quanti sono Ritorna Alla barca Finally No no L'elfo con le corna è tornato Che cosa vuole adesso Ma E che palle Gli elfi chiari Gli elfi chiari sono tornati Abbiamo liberato la luce di Alfheim dagli elfi scuri Quali sono ritornati al tempio Ora che la luce è tornata a brillare Alfheim è splendida Gli elfi chiari sembrano gentili Non parlano molto No Non parlano proprio Il diverso Ma perlomeno non tentano di ammazzarci Secondo mio padre non dovrei fare congetture Ma lui che ne sa Interfaceva chissà cosa nella luce Ho abbattuto un intero gruppo di elfi scuri da solo Qualunque cosa dica Sono felice Di essere intervenuto Beh sì Perché se no magari sarebbe rimasto Rimasto incastrato lì dentro per sempre Odio quel tizio Non lo possiamo sapere Lui tornerà Incoraggiante Davvero incoraggiante Comunque sì Adesso la luce risplende Ragazzi Ha tutto un altro aspetto Dobbiamo per forza scendere di nuovo Vedi forse un altro modo No Allora Ecco Usa il montacarichi Della vasca di sabbia Ah ok Niente Non devo colpire il cristallo Perché già sta funzionando Perfetto Ok Quindi si torna di sotto E ritorniamo alla nostra barchetta E niente da dire ragazzo Tanto è sempre qualcosa da dire Ti vedo particolarmente Taciturno Andiamo va Che vuol dire C'è luce Accontentati Che cavolo è successo Che bello Vabbè io mi porto appresso Comunque la luce Eeeh La luce di Alphime Mi porto appresso Vai colpiscila ragazzo Colpiscila 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 Ecco qua Oh La facciamo fuori subito Nessun problema Tac Bam Chi altro c'era Ah eccola un'altra Ok Proviamo a loccarla ragazzi Così Mi ricordo di farlo una volta tanto Perfetto Ecco qua A posto Se tu tenessi la luce in alto Potrei vedere dove tiro Usa l'udito Adattati Lo faccio Benissimo Niente Eeeh Argio Ste cavolo di stregacce Ne lasciano di argento Eh Eh si Ne lasciano un bel po' Mi piace Mi piace Eeeh Ragazzo si lamenta troppo Ragazzi Si lamenta troppo E suo padre Non è per niente Accondiscendente Alle sue richieste Se colpisce qua Ci apriamo di nuovo Ehm Cioè Un altro Ponte Però Mi chiedo Dove dovremo andare Di preciso Cerchiamone uno Il cristallo Lo troveremo Allora Altro argento Qua Ce n'è un altro E niente Ne dovremmo trovare uno Ragazzi Quindi andiamo Prima di qua Visto che abbiamo Già aperto il ponte E vediamo Che cosa ci aspetta Ne meandre Di questi luoghi Ragazzo Parli troppo Lasciamelo dire Come sempre Allora Questi affari A che sa Non si muovono La porta è bloccata Ovviamente Quindi mi sa che qua Non si accede Per lo meno Non adesso Non senza Un cristallo Perché c'è il buco Al centro Della stanza Quindi Proviamo a vedere Dall'altra parte Ragazzi Ma che gentile L'uomo Quest'uomo Ci da questo Caldo benvenuto Bello 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 Mi è piaciuto Questa è quella Mossa nuova Che io ho dato Allora ragazzo Colpisci un po' Quel cristallo Va Vediamo cosa c'è di qua Se c'è qualcosa Di più utile O ci sono altri Rompiscatole Pronti a farci Le chiappe a strisce Ma non sanno Che sarà creato Sa far loro Le chiappe a strisce È tutto bloccato Oh il cristallo Ci serve Ci serve Ecco qua Perfetto Oddio Abbiamo liberato Abbiamo liberato Le bestie Ecco qua Problema risolta Qua dentro Non ci sarà niente Immagino Però nel dubbio Controlliamo Allora Raccogliamo Bottino di guerra Artefatti elfici Trovati 3 di 6 Ok È uno degli artefatti E qua dentro 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 Questo mio vaso Niente Giamma vitale E adesso Sì ragazzo Adesso mi vedrai Di nuovo Portarmi appresso Non vorrei Che restassi indietro Quando ci attaccheranno Stai allerta È zitto Teasi È proprio cercata Ma hai visto Tuo padre Ma non so Se ti sei reso conto Che prima Che venissimo qua All'ago lì Del serpente del mondo Tuo padre Ha spostato Un ponte Tipo gigantesco Senza battere ciglio Quindi mo mi chiede Se riesco a portare Un cristalletto Dalle dubbie dimensioni Cioè su dai Non mi fa ridere Ragazzi Non mi fa ridere Anzi cioè Ridere Per Kratos Io penso sia tipo Impossibile Cioè Kratos Non riderà mai Nella sua vita Però piuttosto Guarda Stai zitto Che forse è meglio Intanto andiamo a inserire Allora ragazzi Il cristallo Di qua Perché sono curiosa Di aprire comunque Quella porta E vedere che cosa C'è dietro Magari qualcosa Di estremamente utile Quindi Lo inseriamo In questa base E adesso Colpisci Ragazzo Che magici Meccanismi Adoro Allora bisogna inserire Quindi queste Quattro rune Perfetto L'ordine Suppongo Sarà da sinistra A destra Credo Allora Dovrebbe essere B Perfetto Infatti No E dove ci sono Le rune ragazzi Non è l'ordine Ma dove ci sono Infatti qua Bisogna Eh Ah Ah Oppure il tempo limitato Davvero meraviglioso Allora proviamo A fare al contrario Perché qua era l'ultima Proviamo a fare al contrario Sì Il cavolo Perché qua era l'ultima Poi ci serve una F Una sorta di E Diciamo così Ok Ultima ragazzi Ci siamo Perfetto Wii Cosa ci sarà mai di così magico Dentro questo forziere Oddio Ah Ah ok Sono le radici Pensavo fosse un animale morto Perfetto Vicino ai cadaveri Come al solito Spallacci runici A scaglie Oggetto comune Faunisce il potere runico Ci darebbe più runico Più difesa Ma molta meno forza Quindi per ora ragazzi Direi di restare così Come siamo Dentro i vasi pure Non ci sta una mazza Cioè ho fatto sto macello Con sto meccanismo Per trovare un paio di spallacci Che per ora Neanche utilizzerò Va bene Ci va bene tutto Ma mi devo riportare Appresso il cristallo Ci serviva da qualche parte Questa è una bella domanda Sì ci serve Alla sotto Ragazzi Quindi vediamo Di riportarlo Con noi Ormai ci siamo affezionati Non andremo più in giro Senza di lui E lo inseriremo In quest'altra Basetta Qua Vediamo un po' Che cosa succede Ci aprirà un ponte di luce Verso Ragazzo Tira Lo so Tira Ecco qua Oh Ah ok Ci ha aperto un ponte di luce Qua sopra Non vedo l'ora di uscire ragazzi Non ce la faccio più A stare qua dentro Voglio tornare indietro Non poteva esserci Una scorciata Un pochettino più veloce Qua ragazzi Sì C'erano appunto Sti due forzieri Che non ero riuscita Ad aprire Ma Eh Il punto è Ormai Come Riuscire ad aprirli Ma sto cosa Funziona ancora Scusate Sì funziona ancora Però Rimane il fatto Che Non ho la minima idea Di come accedere qui Ragazzi Va bene Bando alle ciance Ragazzi Non perdere veramente Troppo tempo E io non vedo l'ora Di proseguire Aspetta un attimo Prima di andare lì al centro Oddio Ma Ok vabbè Argento Gemma vitale Tutto quello che volete Ma Qua non l'ho presa Sta roba Argento Di qua Non c'è una mazza Va bene Va bene così Che era Su rumore orribile È stato veramente Raccapricciante Andiamo Sotto Oh porca vacca Questa non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Proprio Ma proprio per niente Ok lo chiamolo Se riesco a trovarlo Eccolo qua Resistente Il bastardone Come sempre Non ci provare Non ci provare Ok Vai 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 Super attacco Incredibile Attacco runico Incredibile Ok Non l'ho colpito Ho usato L'attacco runico Pesante Così a cazzum Ragazzi Oddio Quanto so stupida Potrei evitare Di farmi colpire Forza ragazzo Oh eh 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 Dove è andato Eh Oh no no Bastardo Forza di nuovo Super attacco Incredibile Ok Niente Ora esiste Porca miseria Dai 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 di furia Dai Oh eh 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 Niente Mamma mia Forza Ok Adoro Ehi Che Che Giubagib Che Giubagib Trovo a parare Questo Wow Incredibile Ascia rotante Ragazzi Altro che cerchio Rotante Di cittina Incredibile No Sì Vai A mani nude Vai 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 Dove vai Dai No Non ci credo Che cosa diceva Che abbiamo fatto Un grave errore Ma scusa Un grave errore Lui ci ha Ci ha attaccato Che Furore del lupo Evocazione ironica Evoca lo spettro di un lupo Che attacca tre volte i nemici Adoro Minchia C'abbiamo pure le evocazioni runiche L'arco artiglio Può essere equipaggiato Con evocazioni runiche Ok Una cosa che riguarda Treus Quindi Tieni premuto Per attivare le evocazioni runiche Ok Quindi Bisognerebbe tenere premuto Quadrato Perfetto Adoro Bellissima sta cosa Io Fammi indovinare Ora dirai che me l'avevi detto Di non farci coinvolgere Basta Smettila Possiamo andare ora Sì Direi di sì Forse è meglio andare Abbiamo fatto un grave errore Ma ci ha attaccato Scusa Ti ricordi la risposta Sì certo Fai poco lo strafottente ragazzo Non mi far arrabbiare Non vuoi vedermi arrabbiato Te lo assicuro Ragazzo Ragazzo Leggi qui Ragazzo Che dice Mi rivolgi la parola Solo quando ti serve qualcosa Vuoi dirmi qualcosa Ho detto che l'unica volta Che mi rivolgi la parola È quando devo tradurre qualcosa per te Se mamma fosse qui Se tua madre fosse ancora viva Noi non saremmo qui Atreus Lascia stare Ok Brutti Brutti momenti ragazzi Atreus Ce l'ha con Con Kratos Questo l'avamo percepito Soprattutto nella visione Ragazzi Kratos Secondo me Ha solo paura Di affessionarsi Cioè Di Veramente Di restare Impigliato Affettivamente A suo figlio Però c'è Cavolo appunto E suo figlio Ha un aspetto psicologico Kratos Ragazzi Veramente difficile Comunque da interpretare Purtroppo E capisco Atreus Perché vorrebbe solo Che suo padre Li volesse bene Li dimostrasse affetto Come faceva sua madre Eh però Che vuoi fare Quindi torna al tempio di Tyr Possiamo finalmente Tornare al tempio di Tyr E ce ne andiamo Dal Faim Finalmente Nella luce Chi? Lo sai? No Non c'è Non che te ne importi Qualcosa Tieni a freno la lingua Fino al termine Del nostro viaggio Uno di noi Deve rimanere vigile Non confondere Il mio silenzio Con l'indifferenza Sfoca pure Il tuo dolore Ma lascia Mi al mio Mi dispiace Non avevo idea No Perché dovresti Tu non mi conosci bene Lo so che non è stato facile Nella luce Mi è sembrato fosse passato Solo qualche secondo Se ti consola Mi fa piacere saperlo Davvero Allora Dovremmo tornare a Midgard Affrontare l'alito nero O c'è altro da vedere In questo regno Ok È stato bello Sto momento Perché finalmente Kratos Un pochino Ragazzi Ha aperto La sua corazza Perché ovviamente Atreus dice Gua Ovviamente lui Non esprime mai niente Sicuramente non gliene fregherà Una mazza Di mamma Di quello che è successo Il fatto che sia morta Di me E invece Kratos Gli ha detto Semplicemente Guarda il fatto che io non parli Non significa Che io non stia soffrendo È solo che Ovviamente Atreus sfoga il suo dolore In un modo E Kratos lo fa in un altro Non sfogandolo Probabilmente Ma Poi ragazzi Ognuno affronta il dolore A modo suo Questo è stato un momento Che mi è piaciuto Davvero Molto profondo Anche perché Cerca un attimo Di mostrarti Il lato un pochettino Più umano di Kratos Per quanto possibile Si possa chiamare umano Perché ovviamente Ti fa capire Che invece Gli ne importa E come Di quello che è successo Gli ne importava Della sua compagna La amava Evidentemente Che bello Oh Tossing Green Ok Sembra che vi prepariate Per un lungo viaggio Torniamo a Midgard A Midgard A Midgard C'è un tempio abbandonato Che un altro nano Ha trasformato Nel suo deposito personale E chi sarà mai Che è un zeppo Di tesori trovati Durante le sue avventure Nei regni In tutti i regni In quali è stato E cosa ha riportato A casa Fafnir era un Collezionista Compulsivo Di artefatti magici Ok Più ne otteneva E più ne desiderava Per lui non esisteva Regno troppo rischioso Né ci meglio Troppo pericoloso Una volta Si è avventurato A Nifelaim Per una cote Pensate Doveva essere Una cote speciale Questa storia Ha un senso Sì che ce l'ha Guarda caso Ho la pietra D'accesso Del deposito Di Fafnir Potreste trovare Qualcosa di utile Lì dentro Forte Grazie Sindri Ma prego E se per caso Trovaste quella cote Beh Sarebbe proprio carino Da parte vostra Riportarmela Non ho La minima idea Di cosa sia Una cote Ragazzi Vi consiglio di stare attenti Se state andando Al suo deposito Ci sono stato Più di un secolo fa E vi si era annidata Ogni genere di sporcizia Il suo pensiero principale È che ci sia la sporcizia Beh Non si arrabbia Il tuo amico Se lo derubbiamo? Oh No per niente È morto Credo Ti dispiace Bellissimo Non ti dispiacere Queste cose succedono Se si viaggia tra i regni Collezionando preziosi artefatti Che non ti appartengono Ok Immagino che questa sia Una missione secondaria Ragazzi Io temo che purtroppo Le missioni secondarie Le dovrò saltare Perché mi devo concentrare Principalmente Sulla storia Principale Appunto E degli oggetti perduti Sarete agli oggetti Abbandonati sul campo Di battaglia Premi Destra Per richiamare il menu Oggetti perduti Ok Eccoli qua E quindi che ci faccio? Per riscattarli tutti? In che senso? Non so cosa io Abbia appena fatto Ma non fa niente Hai altro da dire? Minchia parli Sindri Eh scusa Atreus Mamma mia Come al solito Va bene Noi andiamo eh Sindri Scusa ma Avremo un pochettino di fretta In effetti Siamo rimasti rinchiusi ad Alphima Tipo un'eternità Siamo entrati in una visione Che Trascendeva Spazio e tempo Quindi Non è andata proprio la grande E questo qua Non l'avevo visto Ecco Grazie ragazzo Cosa c'è? Un'altra parte di codice Vediamoci con bacio Ok Due di quattro Va bene Intanto Direi Padre Ho una confessione da fare Quelle voci che sento Beh Non è la prima volta Quando abbiamo incontrato Brock La sua bestia mi ha detto che qualcosa si nascondeva fra gli alberi Per questo non voleva muoversi Sì mi ricordo Beh Poteva sentire quello che sentiva lei Le sue paure Se succede ancora Devi dirmelo Capito? Promesso Ma che c'ha C'ha dei poteri Anche Atreus Ragazzi Questo è chiaro Sente le emozioni degli animali Adoro Che meraviglia Va bene A parte tutto Rompiamo un po' sta robetta Argento E non ci resta ragazzi Che tornare al viaggio Là Incredibile Ci siamo Ovviamente qua non c'è nessuno Possiamo andare di qua E aprire anche quest'altra porta Che ci condurrà A tutto all'albero del mondo Che meraviglia Meraviglioso Abbiamo la luce A Midgard A Midgard Perfetto Avviciniamoci all'albero del mondo E riselezioniamo Midgard Ragazzi Come nostra destinazione Ecco qua Adesso funziona Midgard Midgard E al centro E al centro dei regni Premi triangolo Per tornare a Midgard Ok quindi Non lo seleziono Tra questi Ma è proprio al centro Insomma Come sarebbe Tutti i regni Esistono nello stesso spazio Uno sopra l'altro È come se la sala Ci facesse viaggiare Senza muoverci Sì infatti Wow Ci siamo ragazzi Toppe Adoro Tipo un megascensore Vivente Che figata Tutto bellissimo Ragazzi Perfetto Si torna a Midgard E prossima destinazione Ragazzi Montagna Chissà la strega Del bosco Come sta Dove sta Brock E Brock E Brock Siamo stati In un altro regno E abbiamo visto Tuo fratello Beh Non in quest'ordine Tu hai permesso A quello smidollato Di toccare La tua ascia Lo sai Che quello Ha perso Il suo talento No Un giorno Ho preso E me ne sono andato Tentava di trascinarmi A fondo con lui L'ha rovinata La nostra piccola No Anzi Al contrario Beh Anche un maiale cieco Può scovare un tartufo Ogni tanto Ma sai che cosa Conta realmente La coscienziosità E io trasudo Coscienziosità Da tutte le parti Ok Che cosa hai fatto L'ho migliorata Bene Se lo dici tu Io mi fido Ciacamente Quando la finita Vi chiederà E no Cosa c'è Nano No 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 Vabbè E questa è un'altra missione Secondaria Per Per Brock Ragazzi Ho bisogno Dell'alchimista Sbagliato Allora ragazzi Per oggi purtroppo Ho finito il mio tempo A disposizione Per registrare Oggi non abbiamo Fatto granché Nel senso che Non è successo Granché Anzi quasi niente Dal punto di vista Della storia Però alla fine Per fortuna Siamo riusciti Comunque a fuggire Da Alphime Con il Bifrost Carico della luce Di Alphime Siamo riusciti Comunque a ripulire Alphime Per fortuna Che adesso risplende Della sua magica luce E che dire Siamo tornati a Midgard Quindi La prossima volta Sarà importante Perché Ovviamente Adesso Dobbiamo tornare Alla montagna Quindi adesso Avendo la luce Nel Bifrost Dovremmo vedere Che cosa succede Ragazzi Io sinceramente Non vedo l'ora Come sempre Aspetto i vostri pareri Qua sotto in commento Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Dovidocio a tutti ragazzi La giocherina Ciao